www.saius.tv Buonasera, sono le 18.31, siamo in diretta in studio Bonella Massimo per un aggiornamento delle notizie, notizie drammatiche che ci giungono dal primo pomeriggio da San Pietroburgo. C'è stata, come avete sentito, una fortissima esplosione nella metropolitana, dunque si parla di 10 persone morte e almeno 40 sono i feriti. Dunque, si è trovato un ordigno inesploso in una delle stazioni della metro che era praticamente mascherato da un estintore e la sua potenza era pari a un chilo di tritolo, molto più potente di quello esploso. Lo riferisce Interfax. Intanto il governatore di San Pietroburgo ha disposto tre giorni di lutto dal 4 al 6 aprile. Nell'attentato, ricordiamo ancora, sono morte 10 persone, 40 i feriti. Il bilancio poteva essere peggiore. La scelta del conducente di portare il convoglio dopo l'esplosione fino alla stazione successiva ha permesso di salvare molte vite. Dunque, vediamo se vi posso dare qualche altra indicazione. Dunque, abbiamo un aggiornamento in questo momento. I feriti salgono a 50, chiuse le stazioni della metro. Cosa dice Putin? Putin innanzitutto era in città. Dice non escluso terrorismo. La procura generale parla di attentato. Dunque, vediamo anche Pandora TV che è molto vicina alla televisione intercontinentale, la Russian Today, che trasmette tramite il satellite. Pandora TV dà un streaming in diretta live dal titolo Esplosioni nella metropolitana di San Pietroburgo. Quindi è possibile avere anche delle immagini, vedere e sentire qualcosa. Il video che poi verrà anche ripreso, lo ricordo, nei prossimi minuti anche sulla nostra testata a pianetaoggtv.net. Dunque, le 18.34 è tutto per questo aggiornamento delle notizie. Ricordo ancora, si parla di un attentato, comunque una forte esplosione alla metropolitana di San Pietroburgo. Sono saliti i 50 feriti e si parla di 10 morti. È tutto per il momento. Restituisco la linea adesso al dottor Giovanni Ziaolin per la consueta trasmissione quindicinale di approfondimento. Se non ci sono altre notizie di rilievo, noi ci sentiamo domani nel corso di pianetaoggi e eventi nel mondo. Nel frattempo, la linea a Giovanni. Buonasera a tutti, benvenuti nel mio consueto appuntamento, il punto di Giovanni Ziaolin, dove il mio obiettivo è quello di parlare dei problemi del lavoro. Del lavoro che non se ne parla più del lavoro e soprattutto anche del non lavoro. Oggi si parla sempre più di finanza, si parla sempre più di PIL, di denaro in generale, però non si parla a chi sta dietro il mondo della produzione, cioè il mondo che crea veramente la ricchezza. E come vengono trattati i lavoratori, cioè quelli che materialmente si sporcano le mani per permetterci ogni giorno di avere la luce, di avere l'acqua, di avere i vestiti e tutte quelle cose che ci servono fondamentalmente per vivere. Il denaro non serve per vivere, poi lasciamo le battute a chi vuole, per il denaro serve per vivere. In realtà per migliaia di anni l'uomo è vissuto senza denaro, attraverso una diversa organizzazione della produzione, o una diversa organizzazione sociale. Ma quello che volevo toccare oggi in questa trasmissione è il problema della flessibilità del lavoro, della precarietà del lavoro che poi è figlia alla precarietà del lavoro o della flessibilità del lavoro, cioè in pratica dei voucher. Cosa è successo? È successo che un'organizzazione sindacale, la CGL in questo caso ha raccolto delle firme per far sì che venissero aboliti i voucher. I voucher sappiamo tutti cosa sono, cioè sono quei buoni lavoro che vengono dati in base alla prestazione, cioè un'ora di lavoro. A chi li acquista costano 10 Euro, a chi poi vengono dati come ricompensa della prestazione del lavoro sono 7 Euro e 50, perché l'altro Euro e 50 sono assicurazioni Ips e via dicendo. Quindi il governo a fronte di questo dilemma o fare il referendum o fare una nuova legge ha preso questa decisione, ha detto beh per quest'anno stop, non si usano più i voucher e non se ne creano più fino ad esaurimento. Allora sono un po' in sorte le organizzazioni padronali che i voucher sono indispensabili, ma non solo le organizzazioni padronali, ma anche sui giornali, ma tipo persone del PD che non ha più niente di sinistra questo partito, anche se si dichiara di sinistra e molti lavoratori credono su questo, che senza i voucher ci perdono occasioni, allora c'è quello che va a studiare, trova questo piccolo lavoretto, quindi i voucher sono indispensabili. La domanda è questa, è possibile tornare indietro ad eliminare tutti quei contratti di lavoro a tempo determinato, a saltuario, ai voucher e via dicendo, è possibile tornare come una volta al posto di lavoro fisso e via dicendo? No, non è più, io questo lo escludo categoricamente e se sarò smentito ditemelo pure nella trasmissione, mettetemi pure alla gogna. Perché non è possibile tornare indietro? Semplicemente per chi mi segue, facciamo una piccola analisi storica del modo di produzione, come siamo arrivati a questa situazione. Allora la flessibilità del lavoro, arriviamo, partiamo dal dopoguerra, quindi il mercato in espansione, c'è un'abbondanza di richiesta della produzione, abbiamo una produzione di massa, quindi abbiamo gli opifici verticali dove tutto viene all'interno di una fabbrica e non si guarda tanto alla diversità della produzione, ma è una produzione standard e lì c'è la possibilità di fare delle previsioni da parte padronale, per cui se si producevano mille macchine, organizzandola diversamente o ampliandola si possono produrre duemila, perché comunque il mercato assorbiva. Tutto questo fino alla prima crisi industriale degli anni 70 e da lì il mercato inizia a saturarsi, per cui la produzione di massa inizia a venire meno, c'è bisogno quindi di esportare dei capitali, quindi i capitali vengono esportati nei paesi in via di produzione, ma i grandi opifici iniziano a non essere più confacenti a quello che poi il mercato chiede, il mercato chiede quindi essendo, iniziandosi a essere intasato, a non richiedere più una produzione di massa, quindi bisogna andare verso la specializzazione. Io faccio dei salti proprio per arrivare al dunque, siamo arrivati alle crisi più profonde, perché poi la crisi non è che termina, si trascina e anche quei paesi in via di sviluppo hanno iniziato a produrre, per cui producendo sempre di più hanno iniziato anche loro a buttare sul mercato le loro merci, perché ricordiamoci che questo sistema, il sistema di produzione capitalistico, non interessa la produzione per l'umanità, ma interessa la produzione fine a se stessa, in modo tale che la vendita di questo prodotto, che è un valore d'uso per chi la compra, possa avere un valore di scambio, cioè del denaro e questa produzione, che è una produzione a retroazione positiva, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che ho prodotto l'altro anno deve essere inferiore a quello che produco quest'anno, altrimenti sono in negativo, è una produzione non naturale, perché in natura un campo può ti dare un quintale di grano, l'anno successivo può darti anche un quintale 10, ma non è che il terzo anno ne faccia un quintale 30, no, più o meno si staziona su quel modo, cioè quanto è il suo modo, quanto la fertilità di quel terreno può dare, invece questo sistema bisogna produrre sempre di più, non in armonia con i bisogni dell'umanità, ma con i bisogni del profitto e del denaro, quindi attraverso come siamo arrivati alla flessibilità del lavoro, che poi diciamo la flessibilità è il modo, il nocciolo per poi capire che esiste la precarietà del lavoro. Allora perché con l'andare del tempo, e l'avrete molte volte sentito, dire si produce just in time, giusto nel tempo, e questo l'abbete visto, anche noi l'abbiamo visto nelle nostre città, i modi di produzione che sono esternalizzate, si sono portate fuori alcuni modi di produzione dalla grande fabbrica, prima di tutto le funzioni di staff, staff vuol dire supporto, bastone proprio di per sé, quindi queste sono state terzializzate, date fuori, non erano più dirette nella produzione, quindi si sono iniziate con le produzioni di staff e sono arrivate perfino alla produzione vera e propria. L'esempio era quella, facciamo un esempio la Fiat, i cerchioni delle auto, non venivano più fatti all'interno dell'operificio che prima raccoglieva tutto, ma vengono dati a una ditta terza che fa i cerchioni delle auto, non solo per la Fiat, ma poi li fa per per la Volkswagen, per la Peugeot, per altre aziende, si inizia con i cerchioni, poi si fanno i volanti e tutti questi prodotti poi attraverso i camion vanno alla casa madre che poi li assemblava e produceva l'auto, quindi tutti i magazzini che prima servivano di stoccaggio alla Fiat per fare l'auto, sono stati trasformati e trasportati su camion, cioè in pratica sulla strada, quindi i magazzini erano e sono tuttora sulla strada. L'importante è che il pezzo arrivi giusto in tempo, cioè quello che serve per costruire quell'auto, giusto in tempo, né prima né tanto meno, soprattutto dopo, perché altrimenti la produzione nell'assemblaggio si ferma. Questo ha creato quindi le grandi fabbriche, si sono ridotte come volume e si sono creati soprattutto qui nel nord est i famosi distretti, cioè quando tante fabbriche che producono su commessa verso, producono su commessa che la commessa può essere una grande fabbrica o un'altra grande fabbrica, per cui abbiamo visto negli anni far sì che anche se il volume delle quantità dei lavoratori dipendenti è rimasto più o meno quello in Italia, però abbiamo visto le grandi fabbriche diventare piccole, le piccole ancora più piccole e quelle piccole sono diventate quasi di pochi dipendenti. Questo perché? Per avere la maggior flessibilità possibile della mano d'opera, perché questo ha creato una specie di catena, tutte collegate perché si produce per commessa che la commessa viene ordinata dalla grande impresa. E si arriva all'esempio più eclatante è quello dei cantieri navali, sia di Monfaicone o di Marghera, dove all'interno del territorio del cantiere navale, a Monfaicone, l'altro giorno c'era proprio un articolo sul Corriere della Sera, diceva che ci sono, su Repubblica scusate, ci sono 500 aziende che lavorano, prima era un'azienda solo, c'era la Fincantieri tutti sotto la Fincantieri e producevano le navi, adesso ci sono 500 micro aziende che fanno quello che facevano prima dei lavoratori sotto un unico, chiamiamolo come era, un unico padrone, per cui si produce su commessa e giusto nel tempo. Il fatto che i lavoratori possano essere flessibili, il fatto che le aziende siano piccole, il fatto che le aziende siano tutte concatenate così è un modo di distribuzione cosiddetta del rischio, del rischio d'impresa perché l'ultimo della catena spera sempre e fa nel tempo, produce nel tempo che quello sopra gli ha commissionato in modo tale da sperare che gli venga data una successiva commessa e viaggia e tutto su 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 in questo modo, quindi prima abbiamo la commessa che cala giù e poi chi materialmente fa, prima è un ordine, poi chi materialmente costruisce su 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 fino ad arrivare alla costruzione della nave in questo caso. l'idea di questa flessibilità è quella di produrre senza operai da parte della grande azienda. L'esempio è una grande azienda di scarpe tedesca, non faccio il nome, dove ha terziarizzato, cioè ha dato fuori, ma non solo fuori nel territorio germanico, ma nel mondo, perché la globalizzazione ha portato anche a questo, cioè portare dove costa meno la produzione e continua a vendere scarpe, quindi da commissione all'estero, vende scarpe che con il suo marchio e non sono state costruite nessuna in Germania. Quindi è proprio questo il nocio, cioè la flessibilità, la possibilità di eliminare in qualsiasi momento quel settore lavorativo che non serve. Io avevo un dato che parlava della globalizzazione, cioè di queste aziende grosse che danno in giro il lavoro, perché anche la globalizzazione fa sì che ci sia questa flessibilità del lavoro e quindi questa precarietà. Dicevo che la globalizzazione può essere quindi più correttamente definita come la ristrutturazione dei processi lavorativi su scala mondiale, che ha coinvolto centinaia di paesi ed è guidata da un numero molto grande di gruppi multinazionali, trasnazionali. Oggi sono oltre 90 mila queste aziende che controllano circa un milione di sussidiarie, quindi da azienda verticale abbiamo una holding, il quale holding ha sotto dei subappalti e via dicendo. Quindi succede che il grande numero delle aziende e delle imprese che formano questa rete complessiva di produzione dipendono dalle commesse, dagli ordinativi, dalla valutazione dei prezzi, dal rapporto costo-benefici, dal rispetto del giusto in tempo, dalla capacità di organizzare la produzione solo su domanda. Insomma ogni azienda ne ha un'altra al di sopra di essa, che valuta molti aspetti della sua attività produttiva economica e tecnica. In sostanza si ha una distribuzione del cosiddetto rischio di impresa, talmente capillare per cui ciascun elemento della piramide di piccole e medie aziende coinvolte in questa rete, deve essere preparato la possibilità di adattare in modo rapidissimo, talvolta nel giro di qualche giorno, il proprio flusso produttivo in funzione di ciò che i vari livelli di autorità, di commessa su commessa, di subforniture, di subcontratti, decidono e pretendono. Ciascuna impresa coinvolta in questi nodi o snodi della catena globale di produzione del valore cerca quindi di ridurre al minimo possibile l'impiego di personale fisso, stabile. Cerca di utilizzare solamente personale il cui numero può essere modificato in più o in meno utilizzando contratti a breve termine perché non sa mai se il primo, il secondo o il quinto sovracomitente rinnoverà quella commessa, così come non sa se i sottocomitenti, i subappalti o i subsussidiari faranno fedelmente fronte alle esigenze di qualità e costo di cui ha bisogno per non essere estromessa da una catena generale di produzione del valore. E questa è una necessità della produzione globalizzata perché nessuna azienda può sapere se il mese prossimo o anche la settimana prossima disporà ancora di quella tal commessa che riguarda quelle attività esternalizzate o internalizzate, non fa differenza, dell'organizzazione produttiva del gruppo organizzato dall'impresa committente o principale. Questo rischio che richiede grande prontezza di adattamento alle commesse e agli ordinativi della commessa si traduce nella richiesta di moltiplicare il lavoro flessibile. In reti del genere o catene globali di produzione del valore il primo imperativo è non assumere. Si cerca di trasformare il lavoro in commesse ad altre aziende ciascuna delle quali, dato che hanno tutte lo stesso problema, cercherà di frazionarlo e trasferirlo in altre aziende e così via finché non si riaccompagna l'unità del processo produttivo. Questo significa che tutti o quasi gli elementi costitutivi di un'impresa piccola, media o grande che compongono la catena globale della produzione del valore ha un interesse materiale, economico oggettivo ad occupare la maggior parte possibile di lavoratori discontinui, intermittenti a tempo determinato, a progetto, cioè lavori che possono utilizzare con la massima aderenza possibile ai criteri del giusto in tempo e del soltanto su domanda. Se non si tiene conto di questa struttura reticolare dei rischi distribuiti, dove ciascuna impresa piccola o media che sia, è sottoposta a pressioni incessanti inerenti alla qualità, ai prezzi, ai tempi di produzione, alla riduzione dei costi da parte di una cascata, di una catena di altre aziende. Non si ha un'idea adeguata di cosa significhi oggi la flessibilizzazione della domanda di lavoro e di conseguenza quasi inevitabile la precarizzazione di esso. Quindi, terminando, la domanda è questa. Si può, il sistema di produzione attuale, abbiamo visto brevemente l'evoluzione. Questa evoluzione ha modificato anche il nostro tipo di vita, la nostra vita, dove noi ci adeguiamo alla produzione. Non è la produzione per l'uomo, ma è l'uomo fatto per la produzione. Quindi i voucher o questi sistemi di tempo parziale o di tempo determinato non ci saranno più? Si può tornare indietro? Assolutamente no. Non si può tornare indietro. Si può soltanto dire che questo sistema non ha più niente di umano, che questo sistema non può sfruttarci più di così. Quindi bisogna non porsi più, secondo il mio punto di vista. poi voi, cari ascoltatori, potrete anche essere contrari. Non esiste più una stagione rivendicativa. Rivendicare il tempo indeterminato quando la produzione è come ho detto e ho spiegato prima. Quindi bisogna porsi il problema di un salto di società, di modo di produzione, che sia questo modo di produzione sia per l'uomo in armonia con la natura. E ho finito anche per questa sera. Ci sentiamo al prossimo appuntamento. Vi saluto tutti e grazie per l'ascolto. Grazie.